Credo probabilmente una delle intro più carine, perché abbiamo capito che l'intro delle puntate è un po' una specie di potevi non saperlo nel potevi non saperlo, ok ogni tanto. Sì, 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 ok. Allora, l'altro giorno stamattina in culo di Martina Maiello, stavamo a chiacchierare eccetera, torna a casa con me a casa e mi fa Comunque ti devo dire una cosa, hai fatto dimmi, mi ammalerò entro due settimane. No. Io la guardo e le dico, amo. È l'anno del re. Benvenuta nella tua ipocondria era, cioè finalmente cos'è? Hai fatto uno star nudo, che succede? Io ti dico mi ammalerò in due settimane perché me lo sento, capito? E mi fa, tiè, e mi porta un'evidenza scientifica, mi porta delle analisi del sangue. Come da un fazzoletto sporco di moccio. Capito, questo hai fatto di colore diverso perché il muco ha un colore diverso in base a che periodo stai dell'infiammazione eccetera. La guardo e faccio, quindi me l'hai disegnato tu, che devi fare? Mi fa, no, ho fatto delle analisi che volevo donare in sangue e mi hanno fatto vedere che praticamente io sto covando una... Invezione. Invezione, una raffreddatura che ho già covata e tu puoi vedere in uno spettro di tempo che Martina ci ha insegnato sia almeno due settimane, ma chi lo sa se può essere anche un mese di incubazione, che siamo, we end up, ora, ora, stai a tenda, fatti questa analisi. Quindi tu ti puoi scoprire se tu sei malata dentro. Ma io lo faccio subito, cazzo. Sì, ma noi tutti i giorni ammo il sope... Dobbiamo partire. Quanto tempo è passato? Una settimana, ma stanno in lontana. Cosa ne pensi? C'è un maliamo sicuro. Tu mi hai fatto prendere la fettura e tre volte. Forse stai incubando una di quelle dei zizi. Sì, sì, è veramente, guarda, è un batterio che si muove. No, ma come a una settimana di distanza? Non fa alcuna. Un paramicio. Che ne pensi? Che succede dentro di te? Sono solo poco raffreddata. Tanta consapevolezza. Tantissimo. Soprattutto se tu sai che accadrà, i germi come si comportano? Secondo me sono un po' più impauriti. Se l'hai sgamati. Eh, ma no, perché io non essendo... Cioè, io sono epocondriaca a zero, quindi a me non mi frega niente. Top, amo, vai, prenditi tutto. Però che utile è per evitare di spendere soldi per viaggi che poi non devi fare perché all'ultimo c'hai le placche? Perché tu con le placche mi fai da... Mamma, io parto. Esatto, parti e non rompi il cazzo. Io sono quasi sempre amm... Cioè, ti giuro che ogni volta, prima di viaggi importanti, c'ho cose, febbre, placche, sempre. Invidia, per lei che riesce comunque a partire. Io non riuscire amo a partire. Totale, totale. Sì, questo è qua. Vedi, è come Daniele si prende sul serio, capito? Comunque, ecco, da oggi vi voglio tutte quante in fila per donare il sangue e per scoprire se state incubando qualcosa. L'ora esatta è offerta da... Sandro. Bob, il podcast. È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita. È quando il dobbile ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina. È quella finestra sul mondo dove puoi guardare o essere guardato. È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi, ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro. E io sono Lele. E questo... Questo è POV. Il podcast. Ma ancora, me vi ripete. Oiii! Oiii, Sandro! Lui sembra troppo Laura Pausini ogni volta che mi fa... Oiii! Sì, Sandro, ma Toru Guardi oltretutto... E vengo da Solorolo. E nessuna delle due disdegna il viola acceso. Come stai, Sandro? E sarò la prossima conduttrice di Sanremo, quindi... O dell'Eurovision, che ne sai? Scusami, tra la Cortellesi e la Pausini, chi è chi dei noi? Tu la Cortellesi, lui la Pausini. Sì, però... Però è più caciottara la Pausini. Mentre lui è molto più professionale, però può anche scherzare su di lui, capito? Come stai, palo in culo? Bene, oggi per noi è pomeriggio, quindi abbiamo una registrazione diversa dal solito. Abbiamo notato anche dei colori diversi, perché siamo entrati e qualcuno ha detto che la stanza è più verde. Ora, io non so se... Sempre più verde. Non so se era una percezione interna o esterna data da fumi o qualcosa. No, però dov'è la malattia che sta incubando? Eccoci, eccoci. No, la vedeva pure in Daniele, eh. Ottimo, è la contanzia. E vieni, ti metti glielo pure. Ma soprattutto, continuiamo a dire che per quanto io vorrei che questo spazio fosse tipo quello dei Dragon Ball, la stanza dello spirito e del tempo, Alessandro ha comunque dietro di noi un LED che ho scritto giorno, data e ora, e ripete sempre, io più vengo qui e mi va di... Che cosa accadrà fuori? C'è una pandemia, non lo so, noi siamo qui protette a parlare di POV. Tu no. È pomeriggio, sono le 15 ed è piovoso. E questo, esatto, l'orario esatto è ferto da quella cosa lì, no? Sandro. Allora, oggi è mercoledì. Esatto. E quindi questo è un POV non sap e voi siete voi e noi siamo noi. Esatto, sempre. Inesorabilmente quasi qua una maledizione. Ed è un POV non sapere e siamo contenti perché tornano le tazze ziziane con le nostre app e le nostre paste. Raga, siamo anche lì, ce lo chiedete veramente in tantissimi e mi fa ride perché non è una battuta questa, cioè non lo sto dicendo tanto per dire ma perché è vero e non sappiamo che fare, raga, sulle tazze, che vi devo dire, se avete dei consigli scriveteci perché dobbiamo capire come commercializzare questa roba ma in maniera che non fidiamo un po' in galera, capito? Esatto, bravo. Ci piacerebbe, ci piacerebbe. Soprattutto noi che facciamo, vabbè, fai la tazza con la grafica tipo che è anche un po' sbiadita. Ma ma se non ti dovete permettere? No, no, è che noi vi proponiamo anche tazze un po' più cheap. Zizi, se la silografia non costa 8000 euro e non è fatta che tu puoi vedere anche il DNA dell'ape davanti, fa, non è cool. Per chi ci ascolta se passa, stiamo maneggiando le nostre tazze come fossero dei primi premi, tipo un Oscar alla carriera. Noi siamo un po' quelle ragazzine prodigio che vengono a buttare sul palco a 5 anni e tutto quello che fanno è sorridere alla platea. Ascoltami, questa è una nuova puntata di Potevi Non Saperlo e ci sediamo sempre a questo tavolo un pochino assetate con delle domande che ci rendono boffamate. Tantissimo. Qual è la più grande però? La principale. Amo. Che suz! E oggi che cazzo suz amo? Perché io comincio io giusto oggi. Allora... Tu, lei la sa? Un sorso d'acqua? No, a Martino glielo ho detta... Vi posso dire, io avevo paura che Daniele portasse una news che volevo mezzo portare anch'io e quindi glielo ho chiesto stamattina. Io ho detto ma... No, io ho detto ma porti la cosa di Willy Wonka? L'Experience di Wonka? La Wonka Experience. Voi non conoscete. Ottimo, ve ne parlo dopo. Bye bye. No, comunque... Sì, 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 l'ho visto. Mi ha chiesto sta cosa, io gli ho fatto... No, mi fa come? Era una notizia davanti a tutti, era facilissimo come potevo non saperlo, proprio per questo. Non era la mia... Non è la mia news, però c'entra un po' con la mia news e se l'avessi portata avrei urlato come un pazzo perché avremmo fatto un ponte di Cristo. Sono deluso da Daniele? Un po'. Un po'. Media, cioè direi come sempre, non è un giorno per essere più delusi da me o altro. Allora, cominciamo. Sono qui un po' alla squadra per portarvi una curiosity. Una cosa che è successa, un evento fino a stai stesso. Un divertissement. Esatto, un divertissement. Bravissimo, Sandro. Lui un po' Sarkozy e io Sarkoza. Ascoltami, se ti dico Cenerentola, Lady Gaga, Furry e Braccio di Ferro, ti viene in mente qualcosa che possa comunare queste quattro parole? Il tour di Lady Gaga su Born His Way. Come? Il tour di Lady Gaga di Born His Way. No. No, però sempre qualcosa di iconic stiamo parlando. Stiamo parlando di nomi che giovani cinesi o comunque una gran parte della popolazione cinese si è data per tanti anni nel momento in cui hanno cercato di darsi un nome occidentale per comunicare con una popolazione che fosse completamente diversa dalla loro. Ok. Cioè, noi sappiamo che i nomi cinesi sono nomi composti molto spesso nomi che magari, che ne so, un nome vuol dire ragazza che ha vissuto nelle tenebre e poi è uscita dalla risperazione, che magari è Sara. Cioè, che facciamo una felice. Il cognome è al contrario, cioè prima c'è capito. Esatto. Diciamo che hanno, nel momento in cui comunque l'Occidente e l'Oriente hanno cominciato a non essere più delle realtà così divise, hanno cominciato un po' a penetrarsi tra di loro, Tinder ce l'ha pure insegnato che può succedere questo, hanno cominciato a dire... La globalizzazione. È il caso, esatto, che ci diamo dei nomi che sono facilmente anche nominabili dagli occidentali. Amo, io ho un esempio nella mia vita, un mio vecchio compagno di corso, il ragazzo cinese proprio effettivamente, penso sia nato comunque a Roma, non ricordo la storia, perché in realtà parlava come uno della garbadella e si faceva chiamare Mario. È il mio professore di storia contemporanea, se non sbaglio, un russista, un enorme studioso Nel senso che aveva problemi aridinoidi? No, no, insomma, cultore proprio della cultura russa, della storia russa, c'era una capa tanta, non capivi una parola quando parlava di Russia, interessato da sta cosa perché evidentemente affascinato dall'estero e gli fa tipo, ma come ti chiami? Mario, no, cioè davvero, come ti chiami? Mario. Mario, cioè insomma non siamo riusciti a comprendere com'è il nome del battesimo di sto cristiano, che però forse a quanto pare è Mario, ma poi no, ho scoperto che non era, non è Mario, ma lui non vuole dirlo perché diceva, tanto non lo capite, tanto non lo sapete, ma ci siamo tutti arrivati su Facebook per arrivare al nome di nascita, c'è una cosa storia. Io mi farei cucinare la carbonara da Mario comunque, mi fido. Verissimo. Comunque, che nome? Posso dirvi una cosa che fa un po' ridere? Praticamente una mia vecchia compagna di corso si chiamava Fatima e tutti i professori la chiamavano Fatina. Basta. Fatina? Sì, perché avevano sbagliato a scriverlo su un foglio firme e da lì era iniziata a chiamarla Fatina. Basta. Vabbè, c'è chi ha la mano di Fatima e chi come Sandra ha la mano della Fatina. E chi il segreto? Nel senso, un pochino più piccola, più sottile. E' nata, insomma, questa esigenza di aiutare gli orientali, in particolar modo la comunità cinese, che soprattutto in Cina, non coloro che si trasferivano in America o nell'Occidente, ma coloro che in Cina cominciavano ad intrattenere rapporti con occidentali, a darsi un nome che in qualche modo fosse nominabile anche da chi non è in grado. noi durante POV, che è la maggior parte dei nomi, io te li chiedo perché non so che come nominare. Irene, tra tutti. Entra in gioco una figura, una persona, una donna, che si chiama Lindsay Jernigan. Questa donna, attualmente di 34 anni, perché gli articoli che ho visto nel 2015 ce n'aveva 26, ho fatto, non so, mi sono imposto di non viare la calcolatrice. E con le dita l'hai fatto? Con le dita, perché comunque avevo bisogno di un supporto, poi ho detto 2015 16, 26 anni ce la posso fare, mo ce n'aveva 34, ai tempi ce n'aveva 26. Dei fatti a casa tutti 26. Esatto. Lei è piccolina comunque. Lei è piccolina ma visionaria, una ragazza comunque per quanto piccola, molto amante del bene del prossimo. Lei attualmente è un'imprenditrice americana, ma è la creatrice di un sito web che si chiama bestenglishname.com. Questo è importante che dobbiamo dire. Questo sito offriva attraverso dei quiz una consulenza a tutti coloro cinesi orientali che volevano trovare un nome che non fosse Lady Gaga o Billboard o Posa Cenere, cioè c'erano veramente i braccio di ferro che potesse in qualche modo far sì che le persone avessero nomi che un pochino le rispecchiassero e che non facevano sembrare allo cilindale di turno che stavano a parlare con un carton animato. Certo, sì, sì. Capi? Tu come ti chiameresti, scusami? Daniel? Eh? Scusaresti Daniel? Daniel Oak. Esatto, sei la gemella di Camilloc. Io vorrei essere James. Eh? Io Jesse. Cioè. Poi esatto, ci stanno. Ma do, ultimamente. Meo e Wobbacke. Dovremmo troppo. E che cosa è successo? Attraverso questi quiz che praticamente ti chiedevano un po' quale musica ti piace, quale sport, se conosci Zac Efron, c'è questo pure quello importante che non prenderei come metro ora, che non so cosa sia successo, caro Zac, comunque rimane sempre nei nostri cuori. Più di 2000 persone hanno soffritto di questo sito e in generale questa consulenza, perché ricordiamo, lei non era affiliata a quelli comuni che tu faceviamo, voglio chiamarmi Patrick, troppo chiamo io il comune ed oggi sei Patrick. No, lei ti offrima la consulenza. Certo. Ci dicevamo, let's talk about it. Minchia. 22 dollari costa questo quiz, per capire un attimo quale nome puoi scegliere, o 148 yuan, quindi volevo anche far capire che se c'è una popolazione più vasta che ci ascolta, io do anche vari modi per cambiare la moneta locale. Perché però lei ha voluto creare sto sito? I motivi sono molti, innanzitutto per le difficoltà di integrazione, perché nel senso, parliamoci chiaro, è difficile pronunciare, veramente A-O, A-O bello, A-O bella, so più facili dei yuan, perché non so come pronunciarlo, poi in Oriente sono anche molto affezionati alla pronuncia, eccetera, e magari hanno più difficoltà ad accettare che noi possiamo occidentalizzare dei nomi orientali. L'altro è per la confusione, anche come forma di rispetto, perché lei ha notato che molto spesso, quando la signora cinese a fianco si presentava come mini pony, diciamo che la multinazionale di fronte non gli dava il mutuo, perché diceva, io non so se mini pony mi continuo a volare, cioè, io non so se voglio dare il mutuo a mini pony, cioè, capito, magari a Gervasia l'avrei dato, a mini pony no. Beh, anche a Gervasia. Oltretutto, penso che si possa fare uno studio antropologico di questi nomi, perché alcuni vanno per periodo di tempo, cioè l'Oriente, l'Oriente, cioè ci sono almeno 12.000 braccio di ferro in giro per la Cina, che si fanno chiamare, cioè, mi chiamo, che ne so, Chen, però per gli amici braccio di ferro. Ma braccio di ferro è tipo braccio con nome e ferro con nome o è tutto unito? Penso tutto unito, tipo Maria Chiara, Maria Chiara, Maria Chiara Ferro, cioè, o Crespi. No, ma poi, amo, se ci pensi, c'è la stessa cosa anche qui, cioè, noi sappiamo più o meno la fascia di età della persona più o meno dal nome, cioè, se ti chiami Alberto, lo sappiamo tutti che hai 60 anni, se ti chiami Mario ce n'hai quasi 70. Questa è, però, per carità, è totale, non posso che concordare. Le zie si chiamano tutte, tutte le nonne si chiamano Maria, c'è capito, le zie si chiamano tutte in un stesso modo. Mammo, se ti chiami Deborah, cioè, secondo me, tu nasci che hai già 25 anni e lavori da Kiko. Per me, se tu ti chiami Deborah, hai 25 anni e lavori da Kiko, periodo. È strano, perché poi c'è un'altra marca che si chiama proprio Deborah Milano, quindi uno si dice, ma che succede? Se ti chiami Sabrina, invece, sei nail artist. Non lo so, mi piace, a me io vorrei che le mie mani se le prendesse pure Sabrina. E, insomma, questo periodo di tempo che, nel senso, la cosa che io poi trovo molto simile è, a voi non vi è mai capitato, io ho questa storia sempre molto divertente, non mi ricordo se l'avrete ai microfoni di POV. Io ho un gruppo specifico a 100 buchi dove tutti hanno dei nomignoli, per la maggior parte nomignoli toghi, che li identificano come, lui è Lorenzo, ma lo chiamano Wolf. Wow, cioè, ma che si trasforma, cioè, ma com'è top. Io, invece, mi chiamo Patti. Perché? Perché io una volta mi ero fissato con l'affermazione, c'ho la patatina che sgocciola, perché volevo sentimi divertente, e l'amica mia da quel giorno mi chiama Patti. Che schifo, perché ti chiami? Perché avevo visto un manzo e volevo far capire alle persone intorno a me che mi ero emozionato. Discritto. Esatto, discreto. La cosa è stata che, da quel momento, quando si presenta gente del gruppo, una persona nuova che entra, lui è Wolf, lui è Peg, lui è Patti, cioè, lui è il frocio. Ma scusate, scusate. Lui è la fairy. Ho un'obiezione, vostro onore. Noi prendiamo per in giro, noi prendiamo per in giro, ascoltate, noi prendiamo in giro Valerio Giallo Sai, Valentino Chiaro, il giusto, com'è, il fresco di zona. Amo, Patti è veramente come il giusto, tu sei come il fresco di zona. Tu sei Fabrizio. Lei è Ming, ma chiamala Lady Gaga. Tu immagina, in una video call di lavoro che fai, fa manda scuda che ci sta, c'è Gianfranco e Lady Gaga, ma di che parliamo oggi? Cioè, ma l'hanno invitata, hai capito? Lei, Lindsay Journeygun, ha creato questo sito proprio per questo, perché ha detto, io trovo assurdo che gli orientali perdano di credibilità per qualcosa che in realtà fanno per sembrare ganzi. E quando noi a 12 anni vorremmo farci i grossi con quelli del 92. Lei, ve l'esimente detto, diamo la credibilità agli orientali, ma adesso pagatemi, grazie. Esatto, lo faccio per voi, eh, paga. Ma fai un quiz che potremmo fare noi? Cioè, perché se non vendiamo... Capito? Ti senti più Zac Efron o Lindsay Lohan? Top, comunque dovremmo svegliarci, dobbiamo svegliar palese, siamo noi il problema. O addormentarci. Oltretutto, voglio dire, volevo cercare questo test, ma non l'ho trovato per un motivo che vi spiegherò poi a breve. Comunque, ho cercato delle interviste che lei ha fatto perché volevo capire, ma perché questa sei pesa così a cuore? Da dove è nato tutto? E ho scoperto un po' l'itinere. Da dove è nato? Cercava... No, in realtà c'aveva già un... Sandra ha fatto il... Quando went up aperitivo nel posto expensive, ma fai l'amicamo, costa. Fuori dalla porta del locale, fai questo e dici ok allora andiamo. Fai quell'interizione a gesto dove fai... Sfreghi quel pollice e quel... Come schede in che dito è? L'indice? Indice, sì. Pollice e indice. E che è successo? Quando lei è venuta questa idea, lei è venuta lavorando a Shanghai. Attenzione. Quando aveva 26 anni, 25-26 anni, si è trasferita a Shanghai perché amava la cultura e tutto. S'ho visto questa intervista, mi è piaciuta. Ma quindi il sito l'ha aperto dopo di Shanghai? Durante. In realtà lei si licenzierà da questo lavoro. Cioè lei arriva a Shanghai, gli piace la cultura, gli piace tutto e mi è piaciuta sta cosa. Mi ha fatto un po' a Sandy Libera questa intervista. Una brava ragazza, Lindsay. Ma cosa hai fatto? Mi è piaciuto come ha fatto l'intervista Lindsay. Mi pare amica tua. Mi sono sentito un po' dopo che ho letto i tuoi scritti. Lei lavorava per una società immobiliare e comunque penso che fosse molto ricercata lei, che comunque mi parlava inglese e cinese. Quindi penso sia un'accoppiata molto importante. Per chi è multinazionali che hanno bisogno di translators. Noi cerchiamo una grafica che parli cinese. Hai fatto il cazzo? Però il posto di Zizi la comprendono ovunque. Anche non a parole ma a virtuale. Tipo non a capi e si capisce. A grave. Che suz amo. E' presente quando, amo, Homer Simpson diventa lo spot delle cose in oriente? Che scoprono che ci fanno. C'è Zizi uguale in oriente. In India ci sono lattine con scritto che suz. Basta, continua. Stiamo interrompendo troppo. E che cosa succede? Mentre lei stava a Shanghai si rende conto che alcune sue colleghe venivano ridicolizzate, colleghe cinesi, Shanghai è in Cina poi mi ricordate voi giusto? Mi fanno un sì generico e ok. Venivano ridicolizzate da altre persone occidentali perché si erano date nomi come Candy, Cherry, Sapphire, Twinkle o addirittura un'altra Eleven. C'è Undici che, da quando c'è Stranger Things possiamo pure capirlo. Ma lei nell'intervista dice, a parte che la metà sono nomi di stripper americane, cioè se ti chiami Sapphire o Twinkle, Twinkle è una che te fai, wink con l'occhiolino. E Eleven lei ha fatto, vi immaginate quando la riunione è alle dieci e mezza, ma noi stiamo aspettando Eleven? Cioè nel senso, Greve, la gente non sa quale cazzo di ora si deve presentare a questa riunione. E la cosa che lei dice, trovo assurda, è che in Oriente ci mettono 16 anni per scegliere un nome a Lufio, anche se la gestazione vuole che siano nove mesi, però qua scegliono Lady Gaga come se niente fosse. Si licenzia e decide di aprire il suo sito, un po' visionaria, 2015, sapendo che comunque l'Oriente e l'Occidente avrebbero sempre di più intrapreso rapporti economici. Quindi è importante che una ragazza che è a capo di una multinazionale smetta di farsi chiamare Morfina, soltanto perché era di moda negli anni 2000, se è un po' così. Entra in gioco un altro personaggio, oltre a Lindsay Jernigan, che è Scott Cronick. Cronick. Scott è il dirigente delle relazioni... Scott pure avrebbe bisogno di un altro cognome, però mi... Scott, diciamo che il suo nome è Cronick, perché è cronico. È un dirigente delle relazioni pubbliche di Ogilvy, Ogilvy, credo Ogilvy, che in Cina e in tutta l'Asia Pacifica è una multinazionale che si occupa di spazi pubblicitari, di info pubblicitari, comunque importante. E lui dice, c'erano persone che sceglievano i loro nomi all'interno della mia azienda sulla base dei periodi dell'anno, sulle stagioni, o in generale si chiamavano Robin Hood. Io mi piace sapere che la maggior parte delle persone nella tua call meeting si chiamano Robin Hood, nel senso sicuramente persone alle quali affiderei il mio conto in banca. Ne parla anche nel suo libro, che si chiama Il lato leggero della Cina, e in questo libro, divertentissimo, spiega che probabilmente è colpa degli insegnanti di inglese che alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, sono andati in Cina. Mi spiego. Tutti gli insegnanti di inglese. Hai presente quando, benvenuti al sud, lui va giù e magari cerca di capire questa lingua, un bomb meridionale, non riesce a capire in modo in cui adattarsi. È tipo quell'insegnante italiano che quando va giù al sud comincia a chiamare tutti i connomignoli. Tu immagina l'insegnante inglese che va in Cina e comincia a chiamare tutti, ehi Lady Gaga, capito? Poi questi se ne vanno e non si rendono conto di aver creato un vizio. E quindi per tutti gli anni a seguire la gente si chiama Posacenere. Ho capito, ma quanti in contemporanea hanno dovuto chiamare le persone Lady Gaga per portare un effetto sulla popolazione? Però se noti, avviene anche nelle nostre scuole, se abbiamo appunto magari un tot di compagni per cui proprio è difficile pronunciare il nome, le mie insegnanti lo generalizzavano? Più che altro è tipo Uem. Io c'avevo Yuchachi. Esatto. Alle medie. Lo chiamavano Ciasaccia? Yuchachi. Si presentava sempre così, perché me lo ricordo. L'hai detto pure in una puntata di Yuchachi. È vero, io ho già detto tanto. Tu calcola che io ce n'abbiamo una che si chiamava Ushakwe, e la chiamavano Lo sciacquone, Porella. Lo odiavo sta cosa, oltretutto c'aveva uno sguardo cattivissimo di quelli che ha detto guarda che mordo, eh. Se mi dili altro... Se mi chiami Lo sciacquone ti mordo un cuore. E secondo me non sapeva un po' che significa, Porella, lo odiavo sta cosa. E nel senso mi fa ridere il fatto che Scott Cronick dice, secondo me è colpa degli insegnanti d'inglese anni 90, anni 2000, che hanno semplicemente fatto sì che metà orientali venissero presi per il culo nel 2024. Quando ho cominciato a cercare questo sito, io non lo trovavo. Cioè mi ero messo a cercare, ho detto, a che cazzo non trovo sto sito? Chiuso. E mi rimandava costantemente ad un altro sito che si chiama Huge Domains, cioè Grandi Domini, dominio proprio inteso come dominio tipo HTTP, che è un sito, è un rivenditore di domini che offre nomi di domini premium. Cioè questo sito è fatto apposta per chi ha bisogno di un sito web o di un dominio o di un nome specifico e non vuole rischiare come noi che per capire se c'era qualcuno che si chiamava Pobby il Podcast se mi ha aspettato due settimane. Tu vai su Huge Domains e cerchi il tuo dominio. Magari è libero, ragazza fantasiosa, se vuoi avere la tua cama. E i domini premium sono domini dall'alto valore commerciale registrati in precedenza da altri e reinseriti nel mercato dagli attuali intestatari. Tu immagina se noi, Pob, lo dovessimo vendere e diciamo questo Pob ha i suoi followers, il suo pubblico, noi non tocchiamo niente e vendiamo quel determinato sito con la consapevolezza che poi il rebranding, il cambio nome, spetta a te. Tu stai... Mi sa che questa cosa andava su Facebook qualche tempo fa, non so se si può fare. Tipo io mi sono reso conto di avere messo like a pagine di cui non ricordavo l'esistenza perché avevo messo like quando si chiamavano in un altro modo, tipo patatine fritte. Dirò sempre questa, ci morirò questa cosa. e ricordo proprio che tipo I Love Tiramisu era diventato il fan club di Calciatore X, capito? O una pagina di inattività. E tu dici, what? Tu pensa se uno ti scoprissimo su Facebook direbbe ma chi è? Chi è lui? Ma anche a che tempo che fa? Non so se sapete, dopo che è passato a... a nove, sul nove, la pagina Facebook di Che Tempo Che Fa è diventata Rai, materiale Rai, e loro hanno dovuto ricominciare da capo. E c'è stato proprio il momento in cui hanno dovuto cambiare nome alla pagina che prima era Che Tempo Che Fa e poi è diventata Rai qualcosa nera. E ci credo. Quindi se la gente si è trovata con like alla pagina Rai, ci piace la televisione di Stato, quindi invece magari era per fazio quel like. Ti prego, se proprio dovesse andare male la chiamiamo tipo me caga addosso? Cioè tutti quanti... La caga smura. Esatto, tipo la pagina per chi si caga addosso, continuamente, almeno ci divertiamo. E ho scoperto che la signorina Lindsay... Di qui sopra? ...aveva... Ha messo in vendita il suo sito. Cioè a quanto pare... Oh, bravolo. Non ci guadagna più. Eh amo, il cazzo costa 8.995 dollari. Oh, Rai, che dai. Beh, nel senso... Ci mettiamo insieme. Sushi domani, sito. Sushi ozi, secondo me dovremmo fare un bel po' di live per poterci permettere di questo sito. Però mi ce l'ha a ridere perché non lo trovavo. Volevo cercare le esperienze delle persone come quando fu per Atina Ferromon che poi a me mi piace vedere. Cioè tipo, oh, la Lindsay mi ha fatto chiamare Paul e grazie a sta cosa mi sento ok. Ok, quindi, grandi imprenditrici ma l'Isday non è stata super lucidante. Non ci ha chieduto abbastanza. Ecco, Lindsay, non ti aspettavi che... Ha fatto un po' la low-end. ...di ragazzi che fanno podcast ti avrebbero sgamato dopo anni eppure sappiamo che tu stai vendendo il tuo sito, ragazza. E concludo dicendo che ho trovato Lindsay su LinkedIn oppure un LinkedIn più internazionale e mi ha fatto morire perché lei comunque una viaggiatrice un po' così aveva scritto sulla sua bio I was born as a southerner brought up as a londoner and live as a wanderer. Cioè tipo, sono nata come ragazza del sud sono stata cresciuta a Londra e vivo come una nomade. Ho fatto ragazza aspettiamo il tuo prossimo sito. E sai chi è? È tipo la biografia di Instagram di una qualsiasi ragazza di Napoli che si trasferisce a Milano per studio. Cioè capito? Oh ma mortacci, io amo le ragazze napoletane che hanno visto tutta la vita a Birmingham e aprono questi profili TikTok dove fanno I was born in Aho, cammafa! Che tu dici, ah ma che cazzo? Come fai ad avere un inglese top ma sei anche copoletanissima? Se sei un membro di casa surace hai questa bio, capito? C'è tipo una cosa del genere. E comunque top perché dentro di me da una parte me lo sono sempre chiesto anche perché probabilmente noi siamo tutti e quattro qui presenti persone che hanno vissuto molto la globalizzazione a scuola in questo senso quindi non è mai stato inusuale per noi avere persone di altre nazionalità anche sapere come cazzo scelgono questi loro nomi cioè anche per dare una mano a noi a poterci comunicare poterci parlare perché gli intenti di Linze sono benevoli cioè io voglio che queste persone si integrino in un certo modo e smettano di chiamarsi Ciliegina che comunque può essere un'alternativa io ti posso dire nella mia esperienza tantissimi ho avuto veramente tanti Ciliegine? No compagni extracomunitari comunque soprattutto dalle elementari perché io la mia prima elementare cioè la mia classe era composta da nove elementi in prima elementare eravamo in nove ve lo giuro ve li elenco anche così in ordine forse anche alfabetico e abbiamo eravamo nove eliminati tutti Sandro abbiamo chiuso la quinta elementare in tipo 25 ma la faccia schifata di Martina come se fosse tipo tipo in nove? totale ma era terribile perché sostanzialmente a parte ero così piccolo che manco c'erano le interrogazioni ma tu pensa quanto dura un giro di interrogazioni in una classe da nove elementi però sembra veramente un racconto dell'ottocento avere i gruppi classe così piccolo oggi penso ma sai qual è il fatto? è perché ai tempi io non so se era una cosa non so come funziona sta roba però di base avevi una preferenza cioè la tua mamma poteva deciderti all'incirca in quale sezione poterti mettere io mettevo altre compagnette anche sì suggerimenti quelli me lo ricordo anch'io io mi ricordo però dall'asiro alle elementari che ne sai dall'asiro elementari no ma io medie superiori c'avevo un foglio che ho scritto scrivi le tre persone ma io scrivo tipo nome tipo Sara ma chi cazzo è? perché non ho scritto il cognome? chi cazzo di ridere? chi poteva sapere? sembrava tipo una cosa per farci dare il contentino ma non era legale capito? io mi ricordo invece li scrivo e li accontentavano uguale uguale stessa cosa alle medie peggio però è successo e no ma ti dico da io ho avuto proprio una paranoia perché siamo eravamo pochi alle elementari a un certo punto mi dispiaceva fare un torto a qualcuno mettendolo come preferenza non quello no quindi scrissi tipo dieci persone erano nove quindi si è pure inventato qualcuno bravo coglione no ma il discorso è che quindi sono arrivate sempre durante l'anno arrivavano persone non so per quale motivo quindi veramente la mia classe è stata un melting pot totale e ricordo ad esempio un ragazzo macedone che si chiamava Votim si chiama credo Votim mangiava sempre un panino con i biust e la merenda che io ho pensato ma i biust e la merenda ma questa è un'altra cosa alle discriminazioni indipendentemente dalla tua razza figurate a me cioè io non avrei mangiato prosciutto niente quindi figuratevi ma il discorso era però lui si è sempre fatto chiamare Votim e noi eravamo cioè io ricordo che eravamo proprio felici di conoscere di più di lui perché si capiva che veniva proprio da un altro cioè proprio da un'altra parte del mondo e non conosceva l'italiano proprio quasi zero io mi ricordo che da bambini eravamo proprio curiosi verso sto Votim perché sembrava proprio veramente da un'altra persona capito guarda sta cosa secondo me ha valorato dal fatto che anche il ragazzo cinese che si chiama Mario cioè chiamarsi Mario ed essere però di aspetto è un peccato secondo me capito più che altro deve avere attitude cioè la cosa che mi è piaciuta di Lindsay è che dice in base anche al tuo carattere ti do un nome che cioè se tu pensi a una che si chiama Jessica non pensi a una che fa mi passi la soia cioè pensi a una che abbia involontariamente tu associ al nome un'attitude e lei giustamente dice io ti aiuto anche a capire che se mi sei introversa non ti faccio chiamare Erika con la k magari ti faccio chiamare Martina o Chiara che sono nomi molto tranquilli e delegati un saluto un saluto un saluto alle eriche introversi alle eriche con la k introversi o alle catiusce cioè ti chiami catiusa però io piango coi tramonti magari è vero amo però da fuori potrebbero non pensare che tu piangi coi tramonti e quindi essere un ragazzo cinese e chiamarti Mario che io ce l'avevo non Mario ma credo Giuseppe perché faceva pallavolo con me lui italianissimo nato in Italia però ovviamente tradizione e famiglia cinese c'era pure un ristorante ma non volevo che fosse uno stereotipo molto buono però ci andavamo a mangiare molto buono ma lui parlava gli ha letto marchigiano peggio di me però aveva un nome tipo Giuseppe e quindi lo guardavano e facevano wow capito cioè strano ma aspetto Mario però mi sa che non era la seconda gen cioè non era nato in Italia capito comunque penso che abbia vissuto la Cina però è stato un po' difficile decriptarlo perché era un po' così sfuggente ah ma questo Mario ha vissuto la Cina ma è entrato dentro ed è riuscito non lo so ma a proposito di Cina e tutte tante belle cose io vi parlo di Kate Middleton ah perché allora so benissimo che se la poteva aspettare questa cosa ma raga la notizia è così tanto intricata così un po' speziale che ho pensato non posso non farlo sarà un po' prevedibile ma io ci vado dritto io so soltanto che quella è sparita allora intanto abbiamo delle la situazione è questa Kate sembra scomparsa Kate dove sei tranquilli esatto tipo il collegamento tra le nostre due notizie è come cazzo fai a chiamare tua sorella Pippa cioè Pippa Middleton ma ci rendiamo conto che però come soprannome Pippa sì sì a livello mediatico è Pippa lei è come mi chiamo Penello per gli amici Pene no amo Nelope Nelope è bellissimo no allora siamo arrivati al 4 marzo come ultima data di sviluppo di Kate e a quanto pare è ritornata ma mi spieghi che è successa sta Kate infatti adesso faccio quello che odio di più al mondo ma faccio un passo indietro io odio i tiktok di persone che commentano una cosa tipo questa sera ho mangiato sushi ma facciamo un passo indietro io schifo non hai fatto un cazzo cioè nel senso quindi però no in questo caso ha senso prima di poco perché non hai aperto tu il profilo che sta andando di moda di quel tipo che prende i video da 5 minuti li croppa subito e fa il riassunto la tipa tipo della cagarella ha 8 minuti di storia non è suo il format l'ha copiato dagli americani quindi ecco sì però non fa bene vabbè se ci vensi Alessandro con le prime due stagioni di POV continua a fare beh questo lo fanno meglio altri sì vabbè però lo c'è pure noi basta sminuirci no allora che succede Kate comunque riparto dalla fine ma sarà la prima volta perché poi il discorso è piuttosto lungo siamo arrivati al 4 marzo dopo che lei era stata si pensava fosse sparita oddio è morta oddio non si sa 4 marzo l'hanno avvistata hanno gli hanno fatto una fotografia davanti davanti ascoltami anzi all'interno di una macchina guidata dalla madre Carol vicino al Windsor Castle chi gliel'ha fatta? paparazzo paparazzo ah ok I'm a big fan no moriamo però e ovviamente l'azienda se sparissi io l'ultima foto l'ha fatta a zizi con l'iPhone tuo ho capito no ma è figura di Kate Middleton no ma il fatto è questo è che hanno cominciato a dire no ma non è lei è palesi la sorella no non è lei è lei cioè nel senso è stato ufficializzato essere lei morta non è o comunque allora secondo me è morta vabbè adesso però vi lo giuro ma quello che vi dico io è facciamo un passo indietro esatto perché si è detta sta cosa esatto perché in realtà è più complessa di quello che credete e soprattutto al contrario di Taylor Swift sono comunque dei pazzi in culo perché tutta la speculazione è assurda le teorie del complotto sulla scomparsa di Kate Middleton fanno molto ride però in realtà c'è una cosa che su cui arrivo cioè vi porterà una riflessione a un certo punto però posso ditte un po' i late motive delle due puntate sono complotti femminili un po' misoggino adoro un po' misoggino ma guarda che io voglio aiutarle capito anche gli uomini possono essere complotti possono sparire chissà una teoria del complotto su un uomo zero chi se ne frega la voce della verità però infatti no diamo il giusto spazio perché di Kate ce n'era parlare molto ripeto l'ennesima volta facciamo un passo indietro siamo al 17 gennaio 2024 vabbè un passo indietro è molto poco indietro pensiamo di sapere siamo nel 742 arriverà anche qualche anno indietro ma sarà tutto sotto forma di commento farmi parlare allora Kensington Palace fa una cosa cioè lo staff della regina del re e della royal family fa un comunicato è normale I beg you pardon annuncia che Kate Middleton si è recata in ospedale per subire questo intervento all'addome e che per questo motivo che ha fatto l'amore aspetta troppe cose fa questo intervento all'addome e il fatto è che dichiarano subito che lei preferisce rendere tutta la situazione privata per rispetto dei figli per la sua situazione personale e anche tutte le informazioni mediche loro dicono preferiscono per scelta di Kate stessa renderle private un addome coperto quindi non scassato guts perché tanto non ve lo diciamo questo è stato il primo annuncio e soprattutto dicono che i public duties cioè le le comparsate la presenza di Kate nelle situazioni pubbliche e sociali riprenderà dopo Pasqua all'incirca dopo Pasqua cioè il 31 marzo di quest'anno cioè del 2024 e i primi casini iniziano un po' a farsi sentire perché comunque annunciare capito una comunque un intervento chirurgico per un alto un rappresentante della royal family così importante come Kate che ricordiamolo è la moglie del prossimo re di Inghilterra è una cosa importante comunque quindi già questo è un po' mosso ma non c'erano ancora le teorie del complotto fatale l'intervento all'addome è bella lì quello che succede succederà a fine mese passiamo al 29 gennaio Kate annuncia di essere tornata a casa che è tutto andato bene che il ricovero è durato cioè che il ricovero previsto era tra i 10 e i 14 giorni sono stati invece circa 12 mortacci che cosa c'è se lei è a casa il 29 gennaio per quale motivo il riposo gli durerà fino al 31 marzo che suzza ha un addome largo che succede? raga due mesi cioè due mesi il problema è che operazione ha fatto perché non lo sappiamo cioè lei sappiamo che ha fatto questo cioè che è all'addome questa surgery ma non sappiamo il motivo perché lei non l'ha reso noto non sappiamo che cosa ha fatto sotto i ferri ti immagini se è fatta un megadermal e uno c'ha la pancia a punta sarebbe fighissimo veramente su questo non ho voluto nemmeno tanto cercare su cosa effettivamente abbia fatto perché anche chi se ne frega però il discorso è che cosa puoi aver fatto per avere intanto tutti questi giorni di ricovero perché sono veramente tanti cioè 12 giorni vabbè che Kate Middleton però ci sono 12 giorni di ricovero sono tanti secondo una puzzettina gli fosse uscito un po' di indestino ma che ne sai pure è si è messa una rete intestinale che deve fare in la paroscopia cioè due mesi di ripresa per soprattutto raga vi ricordate Kate che dopo quanti giorni si è fatta dal suo parto è uscita super top dalla clinica posando come una modella cioè erano passati tipo tre giorni era stupendo soprattutto forse sai perché ci viene da pensarlo perché non siamo noi che finiamo sotto i ferri che andiamo all'ospedale civile cioè quella se si opera c'ha un'equipe di persone intorno che se c'ha poco poco un battito e meno veramente intervengono in 4.000 cioè questo che ti fa più paura perché essere ricchi vuol dire anche se non succede qualcosa che cazzo è successo capito infatti quello che mi fa pensare pensa immaginati noi all'ospedale pubblico che devi urlare come una pazza perché vuoi magari un bicchiere d'acqua e invece niente io a San Giovanni con un piede di contoglio quella dell'ecografia quindi quello che ha portato alla generazione di queste teorie del complotto ma raga ma di un'importanza grossa cioè Buckingham Palace ha dovuto rispondere a queste teorie del complotto a un certo punto perché era così tanto assordante il chiasso mediatico che hanno dovuto in qualche modo cercare di mettere di mettere dei tappi a sta situazione quello che ha portato la formulazione di queste teorie del complotto sono due fattori principali che ha questa lunghissima pausa dai public duties ma soprattutto la mancanza di informazioni da parte di Kate stessa perché lei non ha fatto sapere niente è questo capito che ti dico? ma quello che poi mi fa mi fa un po' pensare cioè quello che ha fatto proprio ha dato il colpo di grazia a sta situazione è stata in realtà una mossa del marito perché il 27 febbraio William cancella un'apparizione pubblica prevista anche per Kate e per lui cioè decide di non presentarsi papam la gente comincia a fare sugiarsi il panico anche perché William ha fatto già dell'apparizione in pubblico prima cioè durante il periodo di recovery di Kate senza Kate da solo esatto quindi il fatto che non si sia presentato lui è andato addirittura è stato avvistato davanti alla clinica durante il ricovero perché lui è andato a trovare perché Vettrova? cioè perché la Vettrova? e soprattutto è solo tua moglie perché non ci sono foto dell'uscita di Kate dalla clinica perché non esistono esatto cioè scusate forse questa è una cosa importante dove dobbiamo un attimo immergerci nei paparazzi inglesi perché la Royal Family raga sono bombardati da continue dichiarazioni sono sempre seguiti da comunque una parte della stampa Kardashian inglesi infinita cioè ma molto di più anche del forse Kardashian non so ad esempio no no a livello cioè la gente è interessata alla loro vita è come i D'Amelio che ora hanno fatto la famiglia D'Amelio ha fatto un reality cioè sono sono un fenomeno importante la Royal Family però dobbiamo anche dire che loro sono anche tristemente abituati cioè Kate amo perdonami c'ho la corona amo ticcati ste foto che cazzo ma arriverò anche a rapporto con la stampa perché oggi ragazzi ho fatto una ricerca che non ho avuto idea quindi da quel momento in poi l'internet è esploso perché tutti hanno cominciato a dire amo che suz dove sei dove sei da Kate dal retro mamma mia e le cose principali che si sono dette sulla sua condizione è coma irreversibile comunque è in coma è quella che noi ci fanno cioè ci stanno allungando un po' la broda perché forse è finita in coma non si sa come andrà sta molto male è peggiorata un tumore è stato detto di tutto sulla sua condizione sulle sue condizioni di salute che lei è in coma irreversibile cioè chi dice che è morta e che quella che quella che stanno cercando cioè quella che finora non si è mai fatta vedere perché stanno cercando comunque un sostituto cioè non ce lo dicono capito ma soprattutto la cosa più divertente è che lei abbia fatto un'operazione d'urgenza per donare un rene a Re Carlo malato di tumore quindi non la vediamo così perché ha donato un rene a Re Carlo e vi posso dire complimenti per la fantasia però cioè motivamente potrebbe anche essere vero chi lo sa ma che cazzo ma poi non voglio di mai maldicenze ma penso che nel senso se capitasse a qualcuno a me per lo status personale che io vivo lo donerei anche un rene ma stare senza un rene è debilitante anche per alcune cose quindi penso che per la loyal family qualcuno che scrive qualcuno mi dà un rene cioè gente che cioè che cazzo te lo dona il rene Kate te lo dona magari una persona qualsiasi che è disposta a farlo perché tu sai che cioè sei il Carlo proprio forse per non dirlo non so non so raga ma ci sono ste dinamiche impossibili da da comprendere però figurate è internet che parla quindi qualsiasi cosa ti viene in mente tu l'hai scritta e potenzialmente tra queste quindi immaginati tu cioè quella più divertente ragazzi quella anche quella che Kate in realtà diventara Zizi a me piace da morire io vedo a quella infatti Re Carlo in realtà e Martina in segreto e noi siamo quella royal family da tempo no ma sai questo è che mi ha fatto un po' storcere il naso è che Zizi è molto più posh di prima non vedi a volte cioè quando abbiamo chiesto some tea prima ha fatto proprio I would like some tea capito che io dico cosa? e voleva prima avrebbe voluto chiesto la cola cola con limone capito? e invece ha pronunciato bene Fleabag prima ha detto ma che succede? London ma il più divertente secondo me di tutte queste cacchie di teorie è secondo una parte di internet Kate abbia subito un lifting facciale dopo aver fatto a botte con il marito no no che cosa che è anche diventata un ha fatto una plastica facciale perché vuole cambiare aspetto non vuole più farsi riconoscere perché stufa della sua vita da reale oppure mi spezza te lo giuro innanzitutto le denunce eccetera non è che vado prima a cambiare la faccia cioè prima faccio verde a te la faccia poi eventualmente vado a farmi qualcosa c'è chi ha detto che ha fatto questo lifting lifting brasiliano che non so quale sia la definizione di lifting quando ti lasciano un pezzettino vero? la brasiliana è tutto eh? il brasiliano è quando tolgo tutto lei ha fatto questo lifting brasiliano adesso sta quindi ha tolto tutto non c'è più una faccia e sta facendo il suo recovery a Miami in realtà non è in Inghilterra ma è a Miami non so il motivo raga però c'è solo c'è scritto sta roba tra il marito che diventa Mike Tyson e la via Cazzotti è molto più fattibile questa qui che lei è andata a Miami infatti questa dei Cazzotti non ha sì ma in generale una delle voci è il loro matrimonio in crisi scusatemi vi ho dato una botta il loro matrimonio in crisi non sanno gestire questa cosa quindi stanno subendo una separazione piuttosto importante quindi hanno deciso di mettere un attimo lei da parte e capire come gestirla questa è stata un'altra teoria molto accreditata ma Kate la prossima Lady D infatti amo 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 secondo me più Megan la prossima aspetta Megan 3 Megan è già fuori dalla papagna però aspettate perché guarda che la DD per me adesso la cominciamo a citare sono stato picchiato in faccia e mi hanno dovuto rifare da capo lo vedo più come una Zac Efron story che come a me se uno mi dice se Zac Efron è stato picchiato dalla tipa perché non lo so non gli basta per stare grosso cazzo la faccia di adesso ma la situazione è così grave che è stato proprio creato anche l'hashtag che è Kate hashtag Kate is missing che spero sia ma davvero che sia poi morto perché con sotto i denari ma la cosa divertente è che poi è uscito anche qualche account che si è messo a ridere riguardo a questa cosa ci hanno fatto dell'ironia dando per scontato che comunque la gente è pazza e queste teorie sono tutte cazzate iniziando a scrivere ma raga ma non è che Kate è Bansky e lì sono morto un pochetto no marshmallow oppure no c'è stato raga un tweet no oddio la ritroviamo con Victoria una serata amerei di Mane Skin che mo si mette a fare la dj mi stavi di prima ti prego Victoria magari io fa tipo la group amerei no ma ma soprattutto c'è stato un tweet raga mi ha distrutto perché secondo qualcuno lei in realtà ha trovato lavoro come animatrice come attrice nel Willy Wonka experience di Glasgow come villain quindi finalmente abbiamo capito che Kate non è così buona come ci dicono capito e sto Willy Wonka experience per chi non conosca perché in realtà ho dovuto approfondire anch'io non lo sapevo benissimo è stato questo evento organizzato da non mi ricordo chi non è importante questo per bambini riguardo proprio tutta la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka ma in realtà questo evento è stato un tipo un grandissimo fiasco un paragone tra cui ho capito il TikTok che dice quello che doveva essere quello che in realtà ma tipo un Gardaland momentaneo solo Willy Wonka esatto tipo opera dove in realtà sono andate le famiglie sono andate i bambini ma era tutta una merda erano tipo due attrazioni tutti attori sfigatissimi immagina una stanza completamente bianca e poi c'è il castello gonfiabile c'è questo buazzo che fa paura esatto invece di essere divertente il villaggio di Babbo Natale nei Simpson quando quello si pia la scala rabbia con la renna totale e siccome riguardo questa esperienza è uscito un meme che è diventato famosissimo che sicuramente avete visto ma non l'avete ricondotto a questo che è quella ragazza con la parrucca verde dietro a un banco con tutte cose di chimica lei dovrebbe fare un'umpa-lumpa dentro la fabbrica del cioccolato quello non è un'umpa-lumpa era tutta una poracciata e quindi c'è questa signora con la faccia sconsolata che sembra un po' barra le folie berger non so se è presente il quadro palese identico che bello internet che incontra l'arte e di base hanno detto che Kate è l'attrice che fa quel personaggio ma la gente sta fuori però scusami quindi di Kate noi non sappiamo ancora niente cioè noi non abbiamo ancora notizia di questa cristiana è stata avvistata perché la foto in macchina risale al 4 marzo ma che è un upasserotto che vuol dire è stata avvistata cioè almeno non è stata seppellita sì ma 40 anni fa è stata avvistata ieri cioè ad oggi al giorno della registrazione è stata vista ieri mattina dove? davanti al Windsor Castle ah ma prendete un coppino a Star Wars con le amiche ma tu guarda sta cristiana che fa io non mi posso più a 5 minuti per me che c'ho un vendor back down che mi piano morta a me dovrebbe magari anche solo questo cioè magari hanno avuto una crisi depressiva e non vogliono farlo sapere soprattutto oh quanto è brutto la gente dice oddio no magari diventassi famoso ah ma tu non ti puoi permettere un momento tuo di defiance che se poco poco è uscita da una clinica comincia a dire che tu c'hai la gonorrea ma allora il fatto è questo sono state dette veramente un sacco di robe super false tutte speculazioni ci siamo anche poi divertiti super false perché tu sai dov'è tu sai dov'è Kate io sì lo so ridacci Kate sta davanti ancora in macchina che aspetta no ma in realtà però c'è un motivo per cui secondo me un po' il naso si può iniziare a storcere riguardo sta situazione e ci sono diverse cose tipo la pausa troppo lunga perché non dichiarare di più perché non dire niente date le pressioni anche mediatiche loro non hanno poi spiegato mai nulla ancora quindi ci sono diversi interrogativi ma soprattutto secondo me la cosa che mi ha fatto proprio sorprendere di sta storia è che in contemporanea alla dichiarazione che Kate sarebbe entrata in ospedale che avrebbe fatto sta cacchio nel suo intervento addominale è stato detto che nello stesso giorno anche il re Carlo avrebbe ricevuto un trattamento terapeutico perché c'è avuto un enlargement che non so bene enlargement della prostata cioè non so se si dice prostata allargata elargement cioè gli hanno allargato l'allargamento della prostata no penso che no che si è stata che siccome c'è la si è gonfiata la prostata la prostata ha dovuto fare questo trattamento ai signori anziani può succedere non conosco bene è un articolo in inglese molto molto accurato e c'era questo prostate enlargement quindi credo che però sia il sintomo la cosa negativa che dovevano curare ma è staccato enlargement enlargement ok enlargement vabbè comunque cercate prostate io non sapendo cosa sappiamo che ha un problema la prostata quindi il discorso è questo cioè di Kate ci avete detto che fa questo intervento all'addome e che starà fino al 31 marzo non si sa come non si sa dove e di Re Carlo ci avete detto che fa un trattamento alla prostata cioè non è che ci avete detto oh sta poco bene vediamo che suzza farà proprio questo ha donato la prostata secondo te Kate ma se si toglie l'utero è una domanda proprio da che parte di opera da davanti o da dietro non lo so ma che ne so sto facendo tutti i posti certo ma la cosa si aggrava perché poi passano delle settimane a febbraio annunciano poi che Re Carlo in realtà ha un tumore ha un tumore preso in tempo cioè nel senso che è stato preso in tempo che si sta curando va tutto bene cioè nel senso è tutto risolto ma le notizie riguardanti la salute di Carlo sono molto specifiche e molto precise quindi le persone hanno iniziato a dire ma perché di Kate non ci dite un cazzo di niente invece a me è questa che me ne sospettisce cioè perché per un evento del genere che per quanto un intervento possa essere privato avete condiviso cose molto più importanti perché adesso non dite una cosa che potrebbe risuscitare con a un intervento non vuole dire a che cosa succede dell'addome perché renderla così misteriosa che ne so secondo me Kate stava dando rene a Carlo e qualcosa l'ha storto nella sua operazione e quindi magari lei poi è rimasta veramente in coma e lui invece no però raga dobbiamo anche considerare il fatto che mi piace questa cosa anche considerare il fatto che non tutti sono compatibili con i reni cioè non è una cosa così spontanea però raga il rene era passata e non credo che sia mai andata avanti come cosa è stata noticeria degli internet quindi nessuno sa dello stato di salute riguardo i reni dire Carlo sappiamo che ha questa situazione un po' cioè il tumore credo che sia stato proprio la prostata raga cioè per quello se ne parla come lo stiamo curando ma l'abbiamo acchiappato in tempo quella nel caso sta dai rene al suocero secondo me la cagata è una delle tante cose che sono state dette però ecco fa ridere perché è proprio molto specifica ma secondo me è stata una delle tante cose che sono state dette è che posso è tremenda è ancora di più è presente quando quando si si sospettisce che magari che ne so dici sto andando a fare un viaggio in Thailand e ti dice ah ok scialla sto andando a fare spesa perché non mi dici dove uguale cioè se per una stronzata tu mi fai tutto sto magagno è una stronzata che mi sta un po' ma soprattutto poi qualche esperto della royal family perché in Inghilterra ci sono un sacco di questi jonathan che fanno gli esperti ammo studiosi c'è gente che è esperta della royal family ha iniziato a dire che è strano che due membri della casa reale così importanti come il re in carica e la first dumb sostanzialmente c'era first dumb york mi pare può essere non me lo ricordo vabbè c'è un sacco di titoli kate comunque comunque due esponenti così importanti entrambi comunque hanno affari di salute secondo la stampa e gli esperti della royal family hanno iniziato a dire questi stanno cercando di coprire qualcosa perché è proprio strano è proprio strano che tutti e due insieme questa è l'unica parte un po' più seria c'è stato semplicemente detto raga secondo me succede qualcos'altro che noi non sappiamo kate non sta morendo c'è nel senso magari forse sta pure a morire adesso non lo so le auguro di no però c'è nel senso non credo che sia niente a che fare con i lifting brasiliani però magari c'è qualcosa che non sappiamo veramente perché cioè si stanno comportando in maniera un po' strana ma raga però lo fanno sempre cioè con la stampa hanno un rapporto proprio strano vi ricordate la morte di Elizabeth cioè noi sapevamo tutti che probabilmente aveva stirato che era un po' così era andata sono passate quante ore dall'annuncio dalla stampa del foglietto pochissime cioè capito è tutto molto un po' rallentato dentro la Buckingham Palace perché comunque trattano di un cioè le cose con una certa insomma serietà a me la cosa del lei è stata però picchiata ha dovuto rifasse a me a me mi piscio perché dico ma secondo te ma il primo problema di una persona che viene picchiata è rifassi il viso è rifassi il viso ma quello che però secondo me è giusto su cui dobbiamo riflettere è perché Kate Middleton ha fatto questo questo bordello lei io non so lei che tipo di voglio palesarlo non sono un esperto della Royal Family però non ho cioè lei non è la Royal Family lei è tipo è come quando uno gli fa ma tuo zio è tuo zio è acquisito no acquisito non è che non gli vuoi bene di meno però nel senso lei è secondo me è anche potrebbe essere vittima di persone che gli fanno shh non è che lei non si può permettere di fare shh però potrebbe anche essere che lei non c'entra niente ma è stata costretta secondo me amante del silenzio questo certamente no ma il discorso però è che il rumore che ha fatto Kate Middleton riguardo questa storia è perché da Kate Middleton non ci si aspetta sta roba cioè tutto che è un po' è elegante lei Kate è esattamente all'interno della Royal Family per come la percepisce la stampa è la ragazza posata sorridente disponibile aperta gentile elegante sempre tutto ciò che non siamo ha un rapporto con la stampa che ad esempio anche la stessa Megan se lo sogna cioè ma per scelta proprio personale cioè ma proprio la stessa Kate una delle sue prime apparizioni in foto si racconta proprio che lei praticamente cercavano di sfuggire da questi paparazzi e lei a un certo punto ha detto raga ma scusate ci mettiamo meno tempo a fare sta foto e le vacce dalle palle ce lasciano in pace e noi siamo felici quindi Kate a questo punto nei confronti della stampa da sempre vederla avversa o nascosta da parte della stampa ha stuzzicato proprio le voglie più profonde della stampa stessa perché non ce se l'aspetta da Kate stessa è come se domani io iniziassi a fare tipo la sboccata totale cioè se lo fa Daniele ormai è normale ma se io divento Daniele quanto si può sentire di più questa cosa e se tu da un certo punto quanto riesci a reggere la performance da domani diventi tipo palesemente educato e inizi a parlare solo di storia dell'arte cioè cosa succede? dai sono stato sostituito sono stato sostituito palesemente bravo è un po' come ahimè questi importanti esponenti della Royal Family hanno proprio questo personaggio pubblico che è il loro più grande dramma Lady Di insegna e hanno iniziato tutti a dire ma non è che Kate sta a diventare Lady Di? perché palesemente Lady Di è sempre stata la vogliono far diventare lo spauracchio? cioè tipo secondo me potrebbe essere che lei è piena razza di tutta questa storia Lady Di non era anche una personalità che è ingombrante per la Royal Family si però c'è diventata ingombrante perché era una persona con una certa attitudine positiva cioè buona ingombrante dopo c'è diventata cioè lei è sempre stata molto esposta e a un certo punto è stata proprio iniziata ad avere i primi segni ha fatto tremare il culo alla gente Lady Di Spencer insegna la fine del matrimonio diverse cose però guarda che strano la gente l'amava cioè nonostante avesse fatto un torto del genere la Royal Family era comunque una era un'icona di stile era una paradina di quello che in realtà secondo me tutti alcune volte vorrebbero fare all'interno della Royal Family un pochino di umanità lei era proprio umana e ragazzi se gli piace questa roba guardatevi Spencer esatto infatti amo ti stavo dicendo guardi Spencer perché secondo me Harry non è figlio di Carlo per esempio c'è anche questa di teoria poi raga all'infuori dell'Inghilterra la Royal Family è odiata vale ricordiamoci questa cosa fondamentale e tra l'altro il documentario di Harry e Meghan fa cacare su Netflix raga che sbocchello di documentari Harry smash totale ma poi se vedi William smash pure l'insegna di POV te posso dire no William da quando mi ha perso completamente quella chioma polta bionda ma William è il marito di Kate no no io voglio il fratello di William Harry mamma mi vicino a William Harry è veramente un adone cioè quindi io ogni volta che vedevo in libreria che ammetto cioè da fuori che entravo e quando vedevo in libreria il libro facevo madonna I wanna be a soldier I wanna be a soldier mamma mi Meghan più che altro quindi insomma non sappiamo bene cosa è successo è stata avvistata quindi Kate a quanto pare almeno non è scomparsa poi cosa sta succedendo alla ragazza non sappiamo di preciso però secondo me è stato proprio pensato anche il fatto di farla apparire cioè capito magari non è lei raga perché se comunque le stanno rompendo così tanti coglioni magari ha messo in macchina una cazzo la zizzi ci sta cominciando a comportarsi come tipo Valentina82 su Twitter che è quella quella più nera incazzata male è una merda è una merda cioè per me Diana è andata all'altro modo per colpa di quelle merde eh sì palese e mi espongo in questo modo quindi ho pau per Kate capito sono Kate e hanno iniziato come diceva la maiella all'inizio puntata la storia è un po' questa cioè si stanno iniziando a chiedere ma non è che Kate sta iniziando ad avere un po' di insofferenza nei confronti della royal family e che quindi questo sia tutto un po' un modo di coprire qualcosa qualcuno cioè tu entri in una realtà che sicuramente ha marciume segreti e improvvisamente tu sei costretta o comunque ti includono all'interno di alcune dinamiche amo io so il tipo che per sbaglio mi esce un cecio e non voglio perché magari capito tu pensa a quella io dopo due giorni mi trovate con la testa piccata Daniela e Megan solo perché ho fatto non dobbiamo dirlo è Megan Markle tu sei Megan amo tu sei totale Megan e lui Kate amo noi che ci vediamo per un caffè ti faccio mi sa che non sarò qui domani amo ma guarda però io come scompaio e tutti parlano di me ma soprattutto adoro perché a quanto pare questo che è stato un thriller medical drama su Kate Middleton forse sta finendo ma vi aggiorno perché non sa cosa succede aspettiamo la puntata di Doctor House dove vedremo Kate Middleton come comparsa esatto no capricorno che raga se mi è scomparsa una capricorno o hai il mental breakdown più grande definitivo amo definitivo vuol dire nella faccia perché ho quello oppure veramente questa ce l'hanno raga non voglio pensare non voglio pensare Kate noi abbiamo un pensiero per te qui la porta hashtag siamo con Kate se vuoi riservatezza scrivici su Instagram noi non diffondiamo però lo sappiamo noi quattro soprattutto il gruppo Telegram se Kate ci scrivesse abbiamo il Patreon la prima puntata del Patreon è Kate ci dice la verità è tutto vera Kate un KitKat con Kate una KKK ma diventiamo palazzi pure noi andiamo a fare foto a loro amo palazzi mandiamo la tizzi con l'iPhone così a fuoco esatto con 05 devo fare su 05 Kate ti vieni un attimo che non riesco a fare la foto amo che bella che meno male che l'hai approfondita perché l'altra volta l'abbiamo parlato a caso poi sono rimasto con una conoscenza superficiale di questo argomento e ci tenevo tanto in realtà sapene di più anche perché poi sapevo che era scomparso ho detto vabbè ma raga infatti mi ha fatto ridere perché la nostra interazione sul gruppo quando avevo mandato lo screen è stato io che ho scritto è morta tu che mandi un audio tipo dicendo ma in che caso cosa è successo a sta Cristiana no ma raga io poi quando ho scoperto tutta la parte della prostata del tumore di Carlo ho pensato cosa cioè io mi sono sentito veramente quel giornalista d'inchiesta che scopre la verità quando in realtà qualcuno l'ha fatto per me però io veramente stavo lì dico no Dio intanto il giardiniere che tagliava le piazza tu hai immaginato quest'uomo anziano con questa sacca testicolare gigante che fa sto male diamoci un taglio vediamo come sta allucinante beh amo top piaciuta piaciuta un sacco bello soprattutto sì dacci notizie mi raccomando è come la prostata è dei maschietti ed è dentro tant'è che quando tu mi vai a penetrazione uno sente ma quindi l'hanno pilato il pipo no 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 dentro il pipo al cuco di là tra il culo e il pipo ok e di solito per fare il test per vedere lo stato di salute della prostata c'è il famoso test del dito esatto volte tutto da vostri eh sì sì e fai e fai tipo ad uncino anzi ti dico anche ideologicamente la prostata immaginatela in un punto x tra la fine dei testicoli e l'inizio dell'ano c'è una specie di linea no beh però hai avuto contatti con dei signorini che avevano quest'organo stasera ci arriva il vocale raga ho appurato non ce l'ho no io non ci posso credere che tra tutte le cose che poteva dire io non ce l'ho cioè poteva dire non me lo ricordo dove metti la mano non so esattamente dove sia perché comunque io me lo immagino tipo qui esatto e come ci ha ridito il dito qui ma poi mentre stavo riscrivendo lei che si cercava di toccasse via col dito prossima volta il prossimo incontro con Zizi fa allora Lele mi ha detto che devo un attimo premerti lui che viene ultima stella a destra lui ci ringrazierà ricordatelo comunque allora abbiamo parlato tanto è arrivato il momento della nostra rubrichetta preferita esatto e la diamo la diamo insieme sempre insieme questa volta anche un po' misteriosa la diamo perché Kate è scombarsa cingo linkami top allora no cominci tu perché stavo per farlo io il recap allora sì ripio un attimo il foglio allora il mio recap pia la penna pure che ci dobbiamo segnare le parole il mio recap è che abbiamo scoperto che quando vi si presenta un ragazzo cinese e si fa chiamare Paul sappiate che dietro quel Paul c'è più di quello che vi aspettate perché c'è una scelta una decisione un'affermazione e una volontà e dei spaghetti di soia e degli spaghetti di soia e ha invece mi trasmentavo chissà e invece vabbè raga io ho parlato di Kate Middleton che è scomparsa e forse è ritornata ma secondo Zizi no secondo Zizi no ci stanno mentendo lei qualcosa lo sa qualcosa lo sa allora le mie parole sono che avevo già scritte prima confusione perché mi piaceva il fatto il senso di spesatezza che ti viene quando leggi mi chiamo Lady Gaga in che senso amo mi piace e possa scendere comunque c'è non c'è una volta in cui Daniele dà una parola chiave che c'entra comunque in maniera diretta con la news cina qualsiasi cosa oppure confusione e possa scendere io avrei detto cina e nomi ma sì c'ha capito sei illogico confusione e possa scendere comunque ricordiamoci che l'altra volta mi ha distrutto perché ho provato a di prova a scrivere questa parola no però io ricordiamoci non posso mai scegliere ciò che mi piace mai comunque io Victoria tu Damiano totale io invece vi dico quindi confusione posa cenere io vi dico madonna ce l'avevo prima l'ho scordata abbiamo confusione posa cenere invece io vi dico lifting e scombarsa ok ricchi e poveri confusione perché confusione lifting perché era scomparsa perché erano meno i membri dei ricchi e poveri erano di più ora sono di meno e posa cenere vabbè avranno perché uno e due fuma perché perché anche la più bella rosa diventa passita a causa del fumo del posa cenere brava Marti raga ma poi vengono così spontanee potevamo secondo me noi possiamo trovare ancora e anzi hanno iniziato a scriverci anche loro dei suggerimenti per il link quindi se avete qualche altra idea oltre ricchi e poveri scrivetesi ma ragazzi grazie per averci seguito fino a qua esatto e se invece volete continuare a seguirci che Kate prima o poi riapparirà potete continuare a seguirci ogni domenica alle 15 per un poveri noi con un poveri voi mentre mercoledì alle 19 con potevi non saperlo e ci trovate su Spotify Apple Podcast Amazon Music pov trattino basso il podcast per Instagram e TikTok oppure se vi va se ci state guardando da YouTube ciao se non sapete che esistiamo su YouTube trovateci ci trovate sempre come poveri il podcast lasciate un commento una recensione il voto stella su Spotify ci fa sempre piacere interagite sempre con noi perché ormai penso che l'avete capito a noi ci piace avere bei rapporti con tutti nel senso se mandate un messaggio noi rispondiamo sentitevi liberi di interagire con noi ogni volta che volete se volete perché tipo Sandro è uno di quelli che guardano tutti di nascosto palese si mi piace guardare ma soprattutto mi piace anche guardare su Telegram se vi va di iscrivervi al nostro gruppo dove commentiamo ragazzi tutti i giorni quello che ci pare come ci piace in maniera molto libera e tranquilla scriveteci che vi passiamo il link e Sandro ogni tanto posta anche foto dei piedi per i fan più stretti vediamo ciao ciao ciao